E comunque torna a partire la rubrica settimanale dalla Joibe di Gnovis dal Mond. E ho dedichato quest'appuntamento di Gnovis dal Mond all'ent Friul Tal Mond che alla vierti il 2024 compranti il palaccio che cumò urda accetta gli uffici Sdalene in via dal Sal a Udin. L'investimento è stato ratificato dal primo consegno di amministrazione dal Gnovis An. Do là che sono anche stasso annunziato i progetti per il 2024. Il 2024 si vierti con importanti novità, specialmente riguardo all'ent Friul Tal Mond. Ma sì, è veramente una bella notizia perché finalmente i furlans verranno la loro chasse. Come non avevano tantissimi furlans, quasi più di 150 furlans per nistare in tutto a Tor Palmond, li che i nostri furlans hanno fatto le loro sedi, hanno fatto le sedi bellissime. in Argentina, in Canada, siamo appena tornati da Australia con il Presidente Bordin, abbiamo visitato i fogolari di Adelaide, di Belburg, di Sydney, con proprietà importanti, fra un lavoro che hanno fatto oltre 60 anni, il mal dal modon dei furlans hanno fatto la loro sede. Noca, in via del sale a Udins, in oltre 40 anni, che però era infine l'anno passata in affetto. Quindi grazie all'opportunità ovviamente dalle proprietari, grazie ad un importante contributo da Regione, che non finissi di ringraziare, e grazie anche al sostegno del Comune di Udins e della Fondazione Friul, abbiamo chiesto l'opportunità di comprare la sede. Non abbiamo comprati dove gli uffici attuali, che sono un appartamento, ma abbiamo comprati la Salle Reunioni, un altro appartamento, che abbiamo l'archivio storico riconosciuto di tutti gli epistolari di un secolo di emigrazione, oltre agli bubini, da registrazioni, da testimonianze, registrati da RAI, addirittura 60 anni fa è stata fatta la prima trasmissione a Don De Kurtis, e quindi sono registrati, quindi vi sono stati intervisti che vengono, però abbiamo comprati altri due appartamenti, quindi tutto il palazzo è diventato proprietà dai furlans, dall'ente frio del mondo. Quindi voi stiamo facendo il primo consiglio di amministrazione da sede, le che sono proprietari. Chiarante a Toropalmont, la famiglia di Islargia sono altri fogolari che sono nascosti. Quali sono? Già il 2023 è stato un anno veramente importantissimo, sono stati viaggiati altri fogolari furlansi dall'Islanda, e sono tornati a viaggiare da Luxemburg, un altro a Londra. Qui stanno? Abbiamo due belle novità, perché i furlans continuano a muovirsi per lavoro, per altre opportunità. a Tenerife, non abbiamo già il fogolari furlansi in Gran Canaria, in Tese da Gran Canaria, però anche a Tenerife ci sono oltre un milione di abitanti, tantissimi turisti che arrivano, abbiamo avuto una lista di una sessantina di furlansi che hanno avuto voglia di creare il fogolari furlansi di Tenerife. E poi in Brasile, in Brasile, nel Rio Grande del Sud, tal zona di Bento Consalves, le calè, il cur dal Ving brasiliano, quindi un importante rapporto di collaborazione fra le università, e quindi ovviamente dal punto di vista endogastronomico, i furlansi hanno tutta l'iratrice anche là. Grazie però agli dosi Urs Bonetti, che sono venuti da scuole mosaicisti di Spilimberg, quindi si sono diplomati e sono là in Brasile, hanno avuto laboratori e quindi hanno avuto voglia di creare il fogolari furlansi e hanno fatto una bellissima istituzione, una roba bella di 12-12 fogolari furlansi, che in questi fogolari furlansi sono riconosciuti da statuti e da nazioni le che sono. Quindi non sono semplici associazioni, vivendo così in amicizie, ma il loro statuto è riconosciuto dal paese che sono ospitati. Allora, diciamo il benvenuto. Sì, un benvenuto, veramente che sarà la prima puntata di Novi Stalmont dal 2024, sicuramente grazie al sostegno dell'Arte, come dicevi, dalla regione, continueremo a sostenere chi sta via le iniziative, perché abbiamo notato che veramente, tanto furlansi come ho avuto la possibilità di vedere la televisione in internet, abbiamo avuto il telegiornale, e quindi abbiamo avuto ogni idea, e quindi cominciamo di nuovo con queste prime puntate di Novi Stalmont. Buonasera, mandi! Buonasera, mandi!